Ritira il prego naturalmente il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Grazie mille. A Cagliari e in Sardegna va potenziato questo settore e quindi il premio incoraggia in questa direzione. Si può innanzitutto organizzare una programmazione triennale in modo tale che gli operatori del mondo della cultura, dello spettacolo, fino alla settima arte, fino al cinema, possano programmare gli eventi con un occhio rivolto al futuro e non solo al bilancio stanziato nell'anno. Non è semplice, indubbiamente è complesso per quanto riguarda i sistemi di bilanci pubblici, però andrebbe data una garanzia in questa direzione perché il mondo che ruota attorno allo spettacolo, alla cultura, al cinema, possa avere una garanzia per programmare per il futuro. Anche perché questo mondo non è un mondo semplicemente di appassionati, è un mondo di professionisti, di lavoro, è un'industria importante che ruota attorno al mondo della cultura e quindi un'economia che si muove, è un elemento fondamentale di sviluppo. Il progetto culturale che sporterebbe in tutto il mondo è Investire in Cultura.